Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla festa dell'unità promossa a Gela dalla Partito Democratico. Quattro giorni intensi di dibattiti e incontri affrontati numerosi temi dalla scuola all'agricoltura. Il segretario cittadino Peppe Di Cristina ribadisce che il PD sta all'opposizione. Vediamo. Quattro giorni intensi di dibattiti e incontri, progetti per il presente e per il futuro. Si è chiusa ieri alla villa comunale Garibaldi di Gela la festa dell'unità promossa dal Partito Democratico. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi esponenti politici, di professionisti. C'era anche la gente comune. Abbiamo fatto esattamente quello che si fa in una festa dell'unità. Si discute, si ragiona e si mettono in gambo proposto. L'abbiamo fatto sulla sanità, dove per esempio l'assessore regionale ha preso impegni precisi per qualificare al meglio la struttura. L'abbiamo fatto nell'agricoltura, nella scuola, sulle pari opportunità. Insomma, 11 dibattiti, 20 parlamentari presenti, esponenti al governo regionale, dell'esecutivo nazionale del partito. È stata una straordinaria festa della politica e a Gela è ritornata una straordinaria festa delle opportunità e delle proposte. Tra i partecipanti è anche la sindaco di Gela, Domenico Mersinese. C'è del tenero con il Partito Democratico? No, assolutamente no. Alla festa dell'unità un microfono, come ho detto ieri, non si nega nessuno. C'è un rispetto delle istituzioni perché lui è il sindaco della città e quindi è giusto che abbia portato un saluto. Ma nel mio intervento, spiegato con forza e in coerenza con quello che fa il gruppo consigliare, che noi siamo all'opposizione e lavoriamo per costruire un'alternativa a questa giunta. Ma cosa vuole rappresentare per la città, per il comprensorio, proprio alla festa dell'unità? Guarda, dopo 16 anni riportare una festa dell'unità provinciale, con la presenza di dirigenti regionali e nazionali, con un partito che riesce a mobilitare vendi parlamentari tra regionali e nazionali, esponenti del governo regionale, esponenti dell'esecutivo nazionale, mi sembra che questa sia la dimostrazione plastica della centralità che il Partito Democratico di questa città ha, ma anche dell'impegno che il Partito Democratico vuole prendere. Abbiamo perso le elezioni, ci siamo rialzati, ma siamo qui perché vogliamo lavorare per costruire una proposta nuova rispetto a un nuovo corso che il Partito Democratico si è dato. Io penso che il responsabile nazionale dei circoli, che è venuto nella giornata di venerdì, e il segretario regionale del partito hanno dimostrato che sono vicini a questo percorso e che il Partito Democratico della città è assolutamente centrale. Idee, progetti, però non vorremmo che poi rimanessero soltanto lette le morte. È esattamente quello che abbiamo evitato, perché sulla sanità, per esempio, l'assessore ha preso degli impegni precisi, circostanziati, sull'agricoltura l'assessore ha preso impegni precisi e circostanziati, e nelle prossime settimane noi dimestiremo che questi impegni li manteniamo, perché abbiamo tanti difetti, ma siamo un partito politico, come primo punto. Secondo punto, noi abbiamo la volontà di voler rispettare gli impegni che prendiamo nella città, con un filo di coerenza precisa. Siamo all'opposizione rispetto a questa giunta, ma siamo una grande forza di governo, regionale e nazionale, e questo peso in positivo vogliamo portarlo nel bene della città. Però un microfono non si nega a nessuno. No, non solo un microfono non si nega a nessuno, ma la festa dell'unità è esattamente un'opportunità di discussione per tutti, anche da punti di vista diversi. Abbiamo avuto anche professionisti e esponenti di altri partiti che sono utili a discutere. Non mi sembra che sia questo il tema. Il tema della quattro giorni della festa dell'unità è quella che, ripeto, si può stare all'aperto, siamo ritornati all'aperto, perché noi rinvievamo i teatri, i cinema, l'abbiamo dimostrato ed è una cosa risaputa. Noi siamo andati alla Villa Comunale a parlare con Gendinari e con cittadini su dieci temi diversi, tutti di importanza baricendrica, e lo abbiamo fatto con la convinzione di sapere che noi abbiamo delle proposte importanti per questa città e che queste proposte possono essere utili per rilanciare una città che sta soffrendo. Una ragazza giulese di 21 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale che si è verificato a Val Duggia, in provincia di Vercelli. Si chiamava Rosaria Migliore, la vediamo nella foto. Assieme a quattro amici era a bordo di un'auto, un Apollo, che di ritorno da una discoteca si è ribaltata. Nel violentissimo sinistro è deceduta anche Silvia Bertarella, 23 anni. L'incidente è avvenuto sulla cremonesina La Strada, che da Borgosesia conduce al paese. La macchina è uscita di strada per cause ancora da accertare. Quando sono arrivati i soccoritori, per le due ragazze non c'era più nulla da fare. Sulla dinamica della sinistro indagano i carabinieri. L'ipotesi più probabile è che l'auto abbia sbandato a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. I carabinieri hanno comunque sottoposto il conducente della vettura all'alcol test per capire se avesse assunto bevande o sostanze stupefacenti. La giovane Sara era figlia di Emanuele Migliore, trasferitosi al nord per motivi di lavoro. Sono stati bloccati dai carabinieri mentre stavano tornando dalle campagne di Butera con 160 kg di uva di probabile provenienza furtiva. Guai in vista per tre gioresi, adesso denunciati. L'uva era caricata sull'auto. In macchina sono stati rinvenuti e sequestrati torce e cesoie. E adesso parliamo della giornata mondiale della missione. Ieri ha portato la sua testimonianza nella chiesa di Sant'Antonio a Gela il missionario padre Walter Corsini. Fabiola Polara lo ha intervistato. Si rinnova un appuntamento molto importante nella parrocchia Sant'Antonio di Gela con l'ottobre missionario. Tanti sono gli obiettivi che sono stati raggiunti. Quali invece quelli che si devono raggiungere quest'anno nel 2016? L'ottobre missionario che si celebra nella parrocchia è la celebrazione che si unisce alla celebrazione di tutta la chiesa universale che oggi ricorda il nostro spirito missionario. Ricorda che siamo chiese, quindi siamo chiesa missionaria. Come ci ricorda il Papa, siamo chiesa in uscita. Quindi il primo grosso obiettivo di tutti i gruppi missionari è quello di ricordare questo. Ricordare che siamo una chiesa missionaria che ha bisogno di guardare fuori alle tante povertà e quindi sia quelle vicine. Non solo perché adesso abbiamo povertà che sono più visibili vicine ma anche alle tante altre povertà che ci sono e poi anche quelle lontane. Il gruppo missionario di Gela in modo particolare è legato negli ultimi anni a un gelese che è il padre Giovanni Salerno, fondatore del nostro istituto missionario che io per grazia di Dio ho avuto il dono di incontrare e che mi ha fatto innamorare della chiesa, della missione e quindi il gruppo è da sempre legato a questa figura e gli obiettivi, più che obiettivi, io direi che sono miracoli perché è partito lui da Gela, è partito solo, è iniziato un'opera grande che attualmente accoglie circa 1200 bambini però proprio in questi giorni stavamo facendo con gli altri padri missionari un piccolo calcolo e quest'anno è la ventesima generazione di bambini che escono dalle nostre scuole quindi in questi vent'anni ci sono stati 20 generazioni che hanno attraversato tutta la formazione hanno ricevuto formazione intellettuale tutta la formazione dell'obbligo formazione professionale e questo ha voluto dire anche seguire le loro famiglie e questo ha voluto dire un'impronta forte sulla Cordilliera delle Ande quindi tra gli indios della Cordilliera gli obiettivi futuri sono da un paio d'anni a questa parte sono state aperte le porte del Perù e si sono aperte nuove realtà a Cuba, dove adesso tra l'altro si trova il padre Giovanni Salerno e il prossimo mese, proprio il mese di novembre apriremo una casa, le nostre suori apriranno una casa in Messico in un bario periferico di Guadalajara e quindi sono obiettivi non piccoli però come sempre quando c'è in mano una missione con 1200 bambini e circa 800 famiglie l'obiettivo è già di mantenere quello che c'è che non è poca cosa e l'intervista integrale a padre Walter Corsini andrà in onda alla fine del nostro telegiornale sono più di 150 i missionari servi dei poveri del terzo mondo in rappresentanza di 18 nazionalità che servono giornalmente oltre 1500 bambini grazie alla realizzazione di scuole, mense, dispensari medici e officine professionali sentiamo alcuni rappresentanti della comunità parrocchiale Sant'Antonio di Gela che promuove come ogni anno la celebrazione della giornata missionaria mondiale Cosa vuol dire tendere una mano a dei fratelli bisognosi che vivono dall'altra parte del mondo e che aspettano questo aiuto? Significa sicuramente che è un dono che ti viene dall'alto esprimerlo in questo modo è sicuramente una gratitudine che tu hai dentro e che comunque si può esprimere anche in altra maniera perché per noi sicuramente l'essere missionario è aiutare sicuramente questi bambini bisognosi ma il gesto della missione per noi è ovunque nelle nostre famiglie nei nostri anziani più vicini nei nostri amici in tutto La forza del gruppo risulta determinante a volte per raggiungere degli obiettivi o semplicemente per regalare un sorriso ma si sa quando si regala qualcosa in realtà quello che torna è moltiplicato Chiaramente il gruppo è coeso è forte e soprattutto il nostro parroco ci guida attraverso gli incontri ogni lunedì noi diciamo che siamo in un momento veramente di formazione continua perché la catechesi è indispensabile noi non doniamo cose diciamo perché le cose si esauriscono noi doniamo l'amore oggi è la domenica della carità ed è per noi un privilegio poter dire oggi noi possiamo fare qualcosa di concreto il nostro messaggio oggi è questo di realtà povere ce ne sono ovunque anche qua e certamente la nostra parrocchia non chiude gli occhi però c'è questa realtà che è nata veramente per volontà del Signore che un gelese porta avanti veramente con coraggio c'è questo movimento Servi dei Poveri del Terzo Mondo che va sostenuto con le preghiere ma anche con l'aiuto concreto e questo è un invito che noi oggi rivolgiamo a tutto a tutti i gelesi chiunque volesse contribuire a chi deve rivolgersi cosa può fare concretamente allora può rivolgersi qua alla parrocchia direttamente al parroco oppure ogni prima domenica del mese fuori qua su Sagrato ci sono due del gruppo due tre del gruppo con un banchetto che raccolgono i soldi anche delle adozioni a distanza anzi colgo l'occasione per ricordare per porgere questo invito chi volesse aderire non c'è come dire un limite o un obbligo può anche iniziare sono 26 euro al mese e servono per dare come dire un futuro a dei bambini che veramente vivono condizioni disumane perché attraverso le fotografie che arrivano si può veramente toccare con mano questa povertà C'è stata anche la presenza della delegata AIRC di Gela Graziella Condello Città oggi al Quirinale dove è stata celebrata la giornata nazionale per la ricerca sul cancro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'ha ricevuta assieme con i volontari i ricercatori e le delegazioni regionali dell'AIRC tra cui quella siciliana composta da cinque delegati Gemma Incorpora Silvana Poddi e Barone Graziella Condello Nella Giallongo Coffa e Domenico Colella la partecipazione di Graziella Condello alla cerimonia odierna davanti al capo dello Stato costituisce un palese riconoscimento alla nostra città e alla meritoria attività dei volontari AIRC Gelesi che con impegno e abnegazione portano avanti da venticinque anni una battaglia sociale densa di iniziative che vanno dalla campagna di prevenzione e di informazione al sostegno della ricerca alla raccolta di fondi lasciando un segno tangibile nella lotta ai tumori e contribuendo sensibilmente al raggiungimento degli obiettivi dell'AIRC diffondere un metodo condiviso è l'obiettivo della protezione civile che da anni promuove a carattere nazionale una formazione che in stretta collaborazione con gli enti territoriali ha promosso la crescita di una cultura di protezione civile condivisa e corrispondente alle esigenze sia degli operatori che dell'intera collettività capace di promuovere e diffondere un unico linguaggio di protezione civile con procedure condivise attuabili su tutto il territorio indipendentemente dalle differenti organizzazioni dei sistemi locali di protezione civile con questo proposito si terrà venerdì 28 ottobre presso la sala congressi della pubblica assistenza Procivis protezione civile di Gela in via Ossidiana 23 un incontro sul tema conosci rispetta e vivi il tuo territorio il rischio perché relazionerà il geologo Salvatore Saia funzionario e responsabile dell'ufficio provinciale di protezione civile del libero consorzio comunale di Caltanissetta l'incontro lo ricordiamo si terrà venerdì 28 ottobre alle ore 18 iniziativa internazionale Europe Code Week alla scuola di Cosorito di Gela l'obiettivo è quello di offrire ai giovani e giovanissimi l'opportunità di iniziare a programmare la settimana europea della programmazione promossa dall'Unione Europea allo scopo di favorire un'appropriata educazione al pensiero computazionale un progetto che vuole potenziare il pensiero computazionale cioè i bambini devono imparare a calcolare però secondo una sequenza processuale che servirà nella vita loro lavorativa in quanto oggi si lavora in modo diverso non più convenzionale non con dati statici ma con modalità tecnologiche diversificate e oggi i bambini hanno concluso la loro attività con questo ballo che in qualche modo vuole simulare la modalità della macchina che si muove con dei processi questa sfida consiste nel coinvolgere il maggior numero possibile di alunni se noi come scuola riuscissimo a coinvolgere più del 50% degli alunni iscritti allora riusciremmo ad avere un certificato di eccellenza da parte della comunità europea io penso che in questo noi siamo riusciti perché abbiamo coinvolto non il 50% ma credo proprio che la totalità degli alunni dalla scuola dell'Imbanzia alla scuola primaria noi stiamo portando i bambini a cercare di usare nel miglior modo possibile il pensiero computazionale sperando di esserci riusciti in questa settimana perché come diceva la collega abbiamo impegnato più del 50% di tutti gli alunni lo abbiamo fatto sia in classe che fuori speriamo che sia una cosa ben riuscita sia stata una cosa ben riuscita e continueremo a andare avanti sempre così appuntamento con la trasmissione 10 domande 10 questa sera alle 21 nostro ospite sarà il direttore del gruppo Geloi Trischelion Giuseppe Laspina le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18 Fiocco Rosa in casa di Valentino Granvillano presidente del consorzio giallocentro e titolare di Palazzo Mattina è nata Giulia 3 kg e 8 di immensa vitalità a Valentino Granvillano alla moglie Sato Turco e alle rispettive famiglie le congratulazioni elettrici e nonna cassete audio e video floppy disk cd tvd spugne sintetiche e stracci sporti cosmetici calze in nylon lumini votivi pannolini assorbenti igienici sacchetti aspirapolveri mozziconi di sigaretta è assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o incolorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto riccoci seconda parte del tre giornale inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'unitredigela presieduta da Angela Scaglione Altamore si darà sabato 5 novembre alle 17.30 presso l'auditorium del liceo classico Eschilo saranno presenti tra gli altri Aldo Scibona il dirigente scolastico Giochino Pelitteri e l'assessore comunale Francesco Salinitro e ora parliamo di sport non arriva la vittoria per il Gela missione sul passo fallita ai danni della Palmese ieri al Presti la gara è terminata 0-0 Gela e Palmese si annullano e finisce così con un pareggio d'occhiari la terza sfida in casa dei biancazzurri giocata al Presti ai giolesi non riesce dunque l'operazione sul passo in classifica sui calabri una gara sicuramente non bellissima quella andata in scena al comunale di Contrada Giardinelli che ha visto la squadra dal tecnico inventino non brillare soprattutto dal centrocampo in su con la Palmese che ha badato a non prenderle difendendosi con ordine e compattezza del Gela comunque le migliori occasioni la partita ha fatto registrare tanti falli con otto giocatori ammoniti insomma un'altra domenica bocca asciutta per i tifosi gelesi che non vedono vincere in casa i propri benamini dalla prima gara contro il Sersale niente da fare anche questa volta con l'urlo in gola rimasto strozzato per i tanti sostenitori locali gara che ha visto dopo otto minuti la Palmese è pericolosa con il tiro di corso da fuori aria all'undicesimo ci prova Bruno ma anche la sua conclusione sorvola il montante al diciassettesimo il capitano Bonaffini tenta di sorprendere l'estremo difensore ospite con una conclusione sul primo palo deviata in angolo al ventirovesimo ancora corso dalla distanza Saitta interviene in maniera goffa ma efficace nella ripresa al sesto Gambuzza ci prova di testa sui sviluppi di un calcio piazzato ma la sua deviazione termina in angolo all'undicesimo Campanaro sempre di testa pall'alta sulla traversa al ventiquattresimo sempre il difensore gelese Gambuzza tenta la via del gola ma la sua conclusione è deviata dal portiere ospite al trentaduesimo il Gela reclama anche un calcio di rigore per una spinta su Nassi ma l'arbitro non ravvede gli estremi per il penalty finisce così dopo cinque minuti di recupero la contesa tra le due compagini con il Gela che si morde ancora una volta le mani e che domenica prossima sarà impegnato in un'altra sfida difficile questa volta sul campo della frattese e a fine gara Flavio Centamore ha sentito i due allenatori a me la squadra è piaciuta perché secondo tempo abbiamo spinto significa che stiamo lavorando anche sotto l'aspetto fisico sapendo che siamo partiti in un certo modo e oggi la squadra ha lavorato fino al centesimo sono molto contento e soddisfatto perché è venuto un punto importante contro una squadra importante noi non dobbiamo perdere l'obiettivo principale che ha questa squadra vedo che c'è facce scure vedo che c'è pessimismo io sono felicissimo io sono contento perché ancora ancora una volta la squadra si è espressa in un certo modo ha corso ha lottato ha attaccato se è difesa importante contro un attacco l'attacco più forte del girone noi dobbiamo continuare a lavorare in questo modo i punti verranno perché credo che questa squadra si fa rispettare perché ha una sua compattezza qualche tuo collega mi ha chiesto la formazione perché ho riconfermato io credo che la meritocrazia si parla tutto in Italia della meritocrazia la formazione si nasce dalle prestazioni io credo che la squadra che si è espressa Castrovilla ha vinto 3 a 0 il 3 a 1 è venuto al 95esimo credo che i ragazzi si sono meritati il posto con i fatti senza chiacchiere qua posti fissi non ce ne sono solo nello Stato c'è il posto fisso da noi si lavora chi merita gioca senza essere avere pregiudizi figli e figliastri qua siamo tutti perché si innesca un meccanismo pericoloso perché chi entra sa che la prossima domenica non gioca e allora anche sotto l'aspetto psicologico è una motivazione in meno invece chissà chi scende in campo si guadagna la riconferma è una motivazione importante per le prestazioni importanti un buon punto in un campo difficile come il Vincenzo Presti Noi siamo soddisfatti di aver ottenuto alla fine della gara a questo punto in un campo difficile con una squadra forte una squadra organizzata bene che gioca un buon calcio e sapevamo più o meno in base alle immagini che abbiamo visto alla gara della partita di Castrovillari che era una squadra che aveva raggiunto una certa autostima con la vittoria conseguita fuori casa sapevamo che magari oggi potevano puntare al sorpasso però ritengo che nel primo tempo ci siamo difesi abbastanza bene non abbiamo subito quasi niente e potevamo sfruttare meglio delle ripartenze perché ripeto questa è una squadra che attacca con più uomini e quindi ti concede dello spazio in avanti potevamo sfruttare meglio le ripartenze non ci siamo riusciti o per bravura della squadra avversaria o anche alcune volte per negligenza nostra per qualche disimpegno gli esterni sono stati un po' provati sotto il profilo fisico perché dovevano rincorrere ed evitare la superiorità numerica sull'esterno però ripeto alla fine anche con un po' di mestiera 10 minuti dalla fine però siamo riusciti a prendere un punto importante e nel campionato di eccellenza vittoria sfiorata per il Terra Nova Gela i gelolossi sul campo del Castelbuono sono stati raggiunti sul pari 2-2 dopo essere stati in vantaggio per bene due volte grazie alla doppietta siglata da Maltese un punto comunque che fa classifica e morale e domenica prossima al Vincenzo Presti arriverà il Alicata allenato dall'ex Simone Pardo secondo posto nella classifica promozionale secondo posto nella classifica assoluta femminile sono i treguardi raggiunti a Narni in Umbria ai campionati italiani di società di atletica leggera per disabili dalla Gela Sport il team locale allenato da Leonie Zappulla ha partecipato con nove atleti alla manifestazione nazionale erano presenti circa 150 atleti provenienti da ogni parte d'Italia dal 28 al 30 ottobre prossimi Gela accoglierà gli atleti della nazionale italiana special Olympics che nel marzo del 2017 in Austria parteciperà ai mondiali invernali nella disciplina della corsa con le racchette da neve l'iniziativa gelese è promossa dalla soluzione orizzonte di Natale Salucci gli allenamenti si svolgeranno nella spiaggia di Gela e i ragazzi della nazionale avranno a disposizione le strutture del club vela per momenti di relax gioco incontri tecnici e momenti di socializzazione grazie alla disponibilità del presidente Luigi Nastasi e adesso vi lasciamo all'intervista integrale a padre Walter Corsini realizzata ieri da Fabiola Polara si rinnova un appuntamento molto importante nella parrocchia Sant'Antonio di Gela con l'ottobre missionario tanti sono gli obiettivi che sono stati raggiunti quali invece quelli che si devono raggiungere quest'anno nel 2016 l'ottobre missionario che si celebra nella parrocchia è la celebrazione che si unisce alla celebrazione di tutta la Chiesa universale che oggi ricorda il nostro spirito missionario ricorda che siamo chiese quindi siamo chiesa missionaria come ci ricorda il Papa siamo chiesa in uscita quindi il primo grosso obiettivo di tutti i gruppi missionari è quello di ricordare questo ricordare che siamo una chiesa missionaria che ha bisogno di guardare fuori alle tante povertà e quindi sia quelle vicine non solo perché adesso abbiamo povertà magari che sono più visibili vicine ma anche alle tante altre povertà che ci sono e poi anche quelle lontane il gruppo missionario di Gela in modo particolare è legato negli ultimi anni a un gelese che è il padre Giovanni Salerno fondatore del nostro istituto missionario che io per grazia di Dio ho avuto il dono di incontrare e che mi ha fatto innamorare della chiesa della missione e quindi il gruppo è da sempre legato a questa figura e gli obiettivi più che obiettivi io direi che sono miracoli perché è partito lui da Gela è partito solo è iniziato un'opera grande che attualmente accoglie circa 1200 bambini però proprio in questi giorni stavamo facendo con gli altri padri missionari un piccolo calcolo e quest'anno è la ventesima generazione di bambini che escono dalle nostre scuole quindi in questi vent'anni ci sono stati venti generazioni che hanno attraversato tutta la formazione hanno ricevuto formazione intellettuale tutta la formazione dell'obbligo formazione professionale e questo ha voluto dire anche seguire le loro famiglie e questo ha voluto dire un'impronta forte sulla Cordilliera delle Ande quindi tra gli indios della Cordilliera gli obiettivi futuri sono da un paio d'anni a questa parte sono state aperte le porte del Perù e si sono aperte nuove realtà a Cuba dove adesso tra l'altro si trova il padre Giovanni Salerno e il prossimo mese proprio il mese di novembre apriremo una casa le nostre suori apriranno una casa in Messico in un bario periferico di Guadalajara e quindi sono obiettivi non piccoli però come sempre quando c'è in mano una missione con 1200 bambini e circa 800 famiglie l'obiettivo è già di mantenere quello che c'è che non è poca cosa Da quali periferie del mondo siete partiti? Allora tutto è iniziato sulla Cordilliera delle Ande il padre Giovanni Salerno ha incominciato a lavorare in una regione che la regione viene chiamata anche adesso il Trapezio Andino che è la regione un po' più povera della Cordilliera e di tutta l'America Latina quindi Perù sopra i 4000 metri e poi negli anni 70 quando è iniziata la grossa emigrazione degli Indios della Cordilliera verso le grandi città quindi quando sono formate le grandi favelas intorno alle grandi città quella di Cusco ma soprattutto quella di Lima si è iniziati a lavorare in un modo particolare nelle zone periferiche di Cusco Condivida con noi un momento intenso di questa sua vita da missionario un qualcosa che le è rimasto nel cuore ma sarebbero tante le cose che mi sono rimaste nel cuore personalmente la cosa meravigliosa è che io sono in debito nei confronti dei poveri perché io sono andato per portare un qualcosa e mi hanno dato infinitamente di più tra altre cose sono stati loro noi chiamiamo i direttori spirituali quelli che ci aiutano a capire cosa Dio vuole nella nostra vita i miei direttori spirituali sono stati loro che in un modo meraviglioso mi hanno detto cosa voleva Dio Dio da meno e soprattutto sono stati per me dei maestri di preghiera nel senso che grazie a loro ho avuto la certezza metafisica che Dio esiste e questo è un dono è un dono grande che non sarà tutta la vita sufficiente servirli per poterli ricompensare questo è quello che aveva desiderato fare da sempre nella sua vita o è stata una illuminazione che è arrivata col tempo a un certo punto della sua vita io volevo fare il geologo infatti mi sono laureato in geologia ed è una cosa che c'è ancora nel cuore con tanta gioia davvero però una volta scoperto questo mondo ho capito che in realtà il mio cuore stava cercando questo perché tutti cercano la felicità e onestamente quello che faccio adesso non lo cambierei con niente al mondo noi abbiamo concluso grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti